Arrivano insieme a Bersani, Casini e Fini per parlare del futuro dell'Italia. L'occasione del convegno Italia 2013, moderato da Marco Damilano, che subito regala all'insolito trio la battuta se è già stata scattata la foto. Un'allusione alla maggioranza che potrebbe guidare il paese dopo Monti. Tema del dibattito è infatti l'Italia del dopo Monti, oltre l'agenda Monti. I tre si erano già intrattenuti poco prima in un colloquio di tre quarti d'ora nello studio di Fini e la Camera sulla crisi economica e sulle riforme istituzionali dopo lo sgambetto di PDL e Lega sul semipresenzialismo al Senato, che di fatto mette una pietra e tombale sulle riforme. La preoccupazione ora è come uscire dalla crisi economica e dare governabilità e stabilità all'Italia anche grazie a una nuova legge elettorale che manda in soffitta il Porcellum. Per Bersani, per affrontare l'emergenza sembra un rilancio culturale, non basta individuare soluzioni tecniche che peraltro sono già tutte spiattellate. La strada davanti è piena di incognita, ripete. Tra l'altro si sta esaurendo la materia prima della solidarietà. Nella gente della politica in primis ci deve essere lavoro, ripete. Per questo rilancia il patto tra i progressisti e moderati, le forze civiche, perché altrimenti non si sa dove si va a finire, non come Italia ma come Europa. È d'accordo con il segretario del PD Casini, che vede bene un patto tra progressisti e moderati nel 2013. Fa riferimento anche a Mitterrand e a Cole, persone che non hanno fatto prevalere la loro visione ideologica o di parte, ma hanno trovato un'intesa. Quando parla di un patto tra forze moderate, centriste e quelle del riformismo progressista, il leader dell'Udc non pensa a Berzani, fini Casini, ma a qualcosa di più importante, a quelle grandi famiglie che hanno fatto l'Europa e che ora la devono ricostruire, e in Italia devono remare nella stessa direzione. Casini si augura che questo continui anche nella prossima legislatura. Berzani è convinto che l'Italia però debba proseguire con un bipolarismo mite, una democrazia che respira con un paio di polmoni, uno di destra e di sinistra, ma con elementi di flessibilità. Fini invita a non aggettivare il bipolarismo, l'essenziale è che si trovino punti di convergenza, che si torni a una condivisione di valori. Ma per dare governabilità e stabilità al Paese serve una nuova legge elettorale, da fare subito, ne convengono tutti e tre i leader. Per Berzani si tratta di capire da subito l'azionista di riferimento attorno al quale si costruisce il governo, Non rinnego il fatto che i governi si fanno in Parlamento, chiarisce Berzani a Damilano, che gli citava le obizioni di Romano Prodi sulla possibilità di garantire la governabilità, ma secondo Berzani deve essere chiaro che ci deve essere un ragionevole ma sensibile premio di governabilità affida dal primo che arriva, che sia una lista o liste collegate. Risponde anche ad Alfano, che in una conferenza stampa parallela rilancia il sistema delle preferenze e si dice pronta a chiudere subito sulla legge elettorale. Un uovo di giornata, lo definisce Berzani, molto irritato e dubbioso che il PDL voglia fare sul senso, se si vuole fare e fare la svelta, la soluzione si trova, spiega Berzani. Si può fare con un primo passaggio subito. Al mondo dobbiamo dire che il sistema politico si sta attrezzando. A proposito del topo, dobbiamo dare la prova che c'è un sistema politico che si attrì, conclude il segretario del PD. Anche per casine bisogna fare in fretta, ma non bisogna mettere troppi paletti, altrimenti il rischio è che non si faccia. Si dice disposta ad ascoltare, a non mettere veti e a discuterne subito. Ora si tratta di chiudere prima che sia troppo tardi.